Il mare è il Mediterraneo, il porto è in Siria, ma sulle navi attraccate a queste banchine sventola la bandiera russa. Siamo nella base navale di Tartus. Si dice che nel 2015, quando Putin decide di iniziare le operazioni in Siria, pensò anche a questa base. Questa base, stabilita dai sovietici nel lontano 1988, è l'ultima base che garantisce l'accesso alle navi russe nel Mediterraneo. Dal 2015, Tartus è cruciale per il rifornimento delle truppe russe impegnate in Siria. Ancora più importante è la base aerea di Memin, fondamentale per i raid aerei sulle zone controllate dai ribelli. Entrare in queste roccaforti russe non è facile. Ogni movimento è controllato, ogni foto, ogni ripresa viene attentamente ispezionata. Quanto ai militari, meglio rassegnarsi. I soldati russi sono cortesi, qualche volta persino sorridenti, ma sempre rigorosamente muti. La base di Memin è una piccola isola russa all'interno della Siria. Qui si prepara il pane, il pane che viene distribuito anche poi nei villaggi siriani. Questa è la maglietta degli Spezzans, lui è un uomo delle forze speciali russe, ma gli Spezzans non combattono soltanto, a volte stirano, a volte cuciano. In questo piccolo angolo di Russia non mancano le chiese e i preti ortodossi, pronti a benedire le missioni dei propri soldati. Un piccolo museo ricorda le tappe fondamentali dell'intervento russo, iniziato nel 2015, proprio con l'apertura di questa base. I dipinti dei militari, le bandiere dell'ISIS, le armi sottratte ai ribelli ricordano ai visitatori come l'intervento russo, sia stato fondamentale per i baltarelli sorti del conflitto. E questo è una sorta di museo delle armi e delle dotazioni catturate ai ribelli, una rugginosa blindata e soprattutto questo mortaio, questo mortaio di grosse dimensioni che serviva per sparare contro le città sediate, Aleppo in particolare, delle bombole di gas ripiene di esplosivi ed attriti metallici che facevano strage tra la popolazione. Ma tutto quel che succede tra questi hangar e queste installazioni ha un unico scopo, garantire l'efficienza e l'operatività delle truppe russe. Il pilota di questo Sukhoi 35 si prepara a decollare, sono gli ultimi controlli prima della missione. La base di Minim è stata attaccata molte volte dai droni dei ribelli, ma a difendere questa base c'è il sistema antimissilistico Panzer S, un sistema guidato dai radar che rende la base quasi invulnerabile. Lo vedete? Quel Sukhoi 35 sta rientrando adesso da una missione sui cieli di Idlib. Ma, come sempre, è sul terreno che si giocano i destini di un conflitto. Da quattro anni queste truppe combattono al fianco degli alleati siriani. Ufficialmente il numero dei caduti supera di poco il centinaio, ma le perdite potrebbero essere molto più elevate. Di certo, con il protrarsi delle operazioni il numero aumenta. Dal Kremlino assicurano che la pace è ormai vicina, ma, come in tutte le guerre, molti non potranno festeggiarla. La Taki. La Taki. L'attaccia. 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 a base Khmeimim, dove si 2015 si è aviazione gruppa VKS rossi. C'è l'occasione della crisi l'occasione di una provincia è in due situazioni. La città della città della città nella città della città nella città della città La città della città e la città della città non è riuscita la città della città all'interno della città Bashara e Hafiza Asada non è riuscita a qui venire i sirei sulle esti per all'armi solito quasi il piacere l'occasione della città e la città la città e la città la città la città la città la città non è stata «Все курорты в Латакии прекрасны. Pogoda и сами люди украшают это место. Чистое море, песок и живописные пляжи. Тут красиво все, даже бассейны». «Меня и знакомые, родственники, живущие за границей. Они говорят мне, что в Сирии плохо и небезопасно. На что я отвечаю, что здесь наоборот хорошо и нет никакой опасности. «Тут у нас все красиво и безопасно. Рекомендую всем желающим посетить эти места». Среди туристов можно встретить в основном сирийцев. Граждане других стран пока не спешат сюда ехать, думая, что здесь продолжается война. При этом наравне с местными жителями встречаются и россияне, давно приехавшие из Сирии и пустившие здесь корни. «Мы были в Алгаб, деревне Шатха. Там нас каждый день бомбили ракетами. До сих пор, конечно. Ракеты там, всякими оружиями бомбили. Нам пришлось приехать в Латакию. Вообще, например, здесь пляж Джоджамаль уже где-то 8 лет был закрыт. Но с начала войны до сих пор. Но где-то несколько месяцев назад открыли». Раскинувшиеся вдоль берега пляжи подкупают своей доступностью и разнообразием. Для людей с достатком найдутся закрытые отели с песчаными пляжами и шикарными номерами. Для любителей обходиться без лишних трат есть множество свободных пляжей и недорогие отели. Найдутся и места для желающих пожить в своем домике. Однако наиболее интересные места в Латакии не так хорошо известны туристам. Но есть в Латакии и такие места, где туристов почти и не встретишь. Это Шабатлия, Белые скалы, райское место в городе. Такие места, как Шабатлия, Вандикандиль, они же черные пески, и другие живописные пляжи, малоизвестные туристам, находятся всего в нескольких километрах от города. И можно до них добраться на такси. Чем примечательно первое место? Здесь расположена резиденция нынешнего президента Сирии. И здесь лучшие места для прыжков в воду и дайвинга. В других местах найдутся свои особенности, поэтому каждый сможет найти в Латакии пляж под себя. Нужно лишь немножко поискать. Играет музыка. Сирии от праздников! Будь hoseong! Grazie a tutti.